Ciao a tutti siamo Spiegeram e benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale Come vedete siamo su Minecraft, siamo su Techcraft Ho fatto delle modifiche, infatti qua ho spianato completamente tutto Naturalmente devo abbellire il tutto, devo praticamente trovare tutto un modo per rendere l'estetica più carina Ho installato altri capi tettoni, infatti guardate che spettacolo Allora ci si mette un pochino di più a tagliare il primo ramo Però vi rende la vita molto più semplice, infatti con un solo tocco, boom, cadrà tutto l'albero Questa mod è fantastica, la potete trovare su internet, basta scrivere Tricapitator e poi la versione di Minecraft che state utilizzando Aiuta molto nel gameplay perché, come vedete, il legno si trova facilmente, molto facilmente Ah, questo me lo prenderei anche Per chi non lo sapesse, questa è una specie di, direi, come posso dire, una gravel modificata che è cotta se non sbaglio No, greenstone, ma stai scherzando, l'hanno cambiato Ah no, ecco, cotta Ci dà gli ingot di quel determinato materiale, per esempio questo alluminio non mi interessa un po', non mi interessa molto Allora, visto che ci servono dei materiali, oggi andremo in miniera Però, prima di andare in miniera, cioè no, andremo in miniera Allora, a meno che non ci bastino quei pezzi di ferro che ho preso adesso, perché ho bisogno di fare una cosa Allora, come sapete, la mia idea è quella di fare una casa dentro la montagna Ma io non posso scavarmi una casa immensa dentro la montagna perché ci metterò un sacco di tempo, no? Perciò, come ho intenzione di fare? Ho intenzione di utilizzare le turtle Perché? Perché le turtle fanno tutto da solo, praticamente So soltanto che per far funzionare le turtle, innanzitutto, mi servono i materiali per costruirlo Quindi ferro, vabbè, pietra cotta Oltre a quello mi serve anche il carburante Se uso il legno lo finisco in due secondi Quindi preferirei andare a prendere del coal in miniera Perciò, niente, oggi andiamo in miniera Ah, frape Allora, eccomi qua No, direi, oddio Direi che prima di iniziare ci creiamo un altro paio di picconi Anzi, forse è meglio se cuociamo almeno tre pezzi Vabbè, questi pezzi di ferro Nel frattempo, io direi di andare a cercare un posto in cui scavare Non vorrei scavare vicino a casa Nel senso, non davanti a casa Perciò direi di andare tipo, che ne so, qua giù, non lo so Oh, oh, là c'è un bioma nevoso Io odio i biomi nevosi, come sapete bene Allora, ci prendiamo il ferro che ci darà adesso la nostra furnace Smettila di laggare Grazie Non sopporto più fraps, quindi per favore Trovatemi qualcosa che mi aiuti a risolvere il problema Quello di action Perché non riesco più a utilizzare questo fraps Come vedete mi fa laggare come un maiale Allora, così Eh, sì, lo so che forse avevo stick già Già stickati Nella Nella Chest, però non fa niente Avevo di questi, vabbè, mi prendo anche di questi, dai Che ci serviranno Poi, vabbè, cobblestone ne ho preso Eh, vabbè, magari, vabbè Smettila, ti prego Eh, no, dai Facciamo che mi prendo questo Questo legno e andiamo Allora, quindi, abbiamo detto Io andrei verso Smettila Andrei verso qui Che so, qui Ma sì E scaviamo verso giù, normalmente Eh, magari metto What the fuck Cosa sarebbe questo? Che culo c'ho Ma che culo c'ho Allora, allora, allora Mettiamo un waypoint Entrata Caverna Na Save Perfetto Perfetto Andiamo ufficialmente In caverna Come vedete Abbiamo già trovato Della roba Quindi del coal Che ci servirà Tanto per quello Che vi ho detto Prima Eh, perché Come vi ho detto Per far andare Le Le tartole Ho bisogno di coal Io direi di fare anche Qualche torcia Perché Voi non ci vedrete niente Come minimo Sarebbe l'ideale Mettere un po' di luce Oh, le Mamma mia Che bellezza Sarebbe che ho fatto un casino Col cellulare Ok Olè Allora, utilizziamo il nostro piccone di ferro Il nostro magnifico piccone di ferro Eh Eh, queste non le prendo per adesso Queste sì, assolutamente Ci serviranno prima o poi Tanto da rifare la Eh Oh, cazzo Il coso con la M Che è molto Molto Utile Olè Mori Purtroppo questo cazzo di frapp Questo arazzo di frapp Scusate il termine Mi fa laggare come un maiale Perciò non ci capisco più una mazza C'è da tipo Oh, ciao Alluminium Eh, non mi serve Troppo Sai com'è Allora, facciamo così Mettiamo via questo qua Che se no lo uso Per sbaglio Eh, mi dà fastidio Visto che ho un piccone fighissimo qua Che poi sarebbe Più comodo Utilizzare l'altro Nel senso che Sì, questo è più veloce Però Eh Questo ci potrebbe servire Per prendere cose Che con l'altro piccolo Non possiamo prendere Allora Come avete c'è molto Coal Il che mi piace Pè davvero Ce lo prendiamo tutto Poi Eh Mi avete detto che Vi piaceva l'idea della lava Eh Proverò a recuperare qualcosa Cioè nel senso Riproverò a fare Il progetto Quello con la lava Però È qualcosa di abbastanza remoto Perché Come avrete visto Oh ciao Devi morire Devi morire Devi morire No La spada Dov'è la spada Quando mi serve Dov'è finito Pipistrello Devi morire Ora vi spiego perché Anzi lo saprete già Per chi ha seguito l'altra serie Lo saprà già Io posso trasformarmi In quello che uccido Quindi io posso trasformarmi In un Pipistrello Ta 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 Olè Posso volare Posso volare Il che mi rende abbastanza Comodo Da poter viaggiare Unicamente Utilizzando delle ali Mamma mia che termini Oh fuck Smettila 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 Ok 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 Praticamente In questo momento Sta generando mondo Quindi è anche un po' normale Che laghi Però mi dà fastidio Lo stesso Io direi di prenderlo Questo Magari mettilo là Scusatemi un secco Eccomi qua Scusassemi What Mettiamo una bella Torce Non ho più torce Mamma mia Facciamo degli stick Olè Non so se questi si possano utilizzare Per fare le torce Direi di sì Vabbè dai Per adesso ci accontendiamo di queste Col qui Finte Finti stick lì Torce Oh cazzo Ciao 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 Ci usiude subito Perché abbiamo Trasformandoci in 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 cosi In bat In pipistrelli Abbiamo anche il cuore Da pipistrello Cioè Tre cuori 3 cuori Sì E in più Se vogliamo Rallentiamo La distruzione dei blocchi Questo potrebbe essere scomodo Ma Voi direte Sì Però Se qualcosa di altro In alto Ci arrivi Molto più facilmente Infatti avete ragione Siamo alti un blocco Quindi saltiamo un blocco Cioè Quindi Come dire Se cadiamo da due blocchi Ci facciamo la bua Probabilmente Non ne sono sicuro Sinceramente Ma è una mia supposizione E poi sembra Sembra che Guardate Secondo me Dovemmo modificarla Perché sembra che non Cioè Ti dà la sensazione Di non riuscire a saltare Oh già finita qui Ma noi vogliamo Molta più roba E che Kaiser Quindi andiamo più giù Vi prego Vi prego Aiutatemi con la storia Di Di action E in pratica C'era quel problema Che quando registro E qualsiasi gioco Anche con Hitman L'aveva fatto Mamma mia che brutto E la mia voce Andava a scatti Cioè non si capiva niente Di quello che dicevo Praticamente Come se laggasse la voce E che Tipo falsava Cioè Usciva una registrazione Di merda Io non me ne sono mai accorto Perché durante l'editing Non sembrava Non lo faceva Cioè Lo fa soltanto nel file Finale Come si può dire Ehm Io Io non lo so Io non lo so Ehm Scusate un attimo Eccomi qua Scusate Ehm Ok Allora Ci vediamo questo Queste non le prendo ancora Però ci serviranno più avanti Probabilmente Se utilizzeremo la mod Ehm Che in realtà Non so neanche se è già usato Nelle altre serie La Towncraft Sì forse sì Nella prima Nella prima stagione Ehm Allora invece Questi Questi Scusate Queste pietre qui Questi quarzi Ehm Per chi non lo sapesse Servono a fare un impianto Ehm Un impianto Per la Per lo storing Per lo storing Per un impianto avanzato What the fuck Wow Ce n'è di più o sbaglio Ehm Più avanti Più avanti vedrete E' un impianto molto figo L'ho fatto in tutte le In tutte le stagioni Ehm Mi sembra Sì 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 In tutte le stagioni E' tornato utilissimo Anche perché E' conveniente Cioè Molto più comodo Si può accedere da remoto Insomma Molte qualità No Che palla E la gravel Ehm La gravel cade Che palle Boom 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 Ah ci vuole mezz'ora Io cambierai anche rotta Soltanto che Boh Voglio ottenere una rotta lineare Aiaiaiaiai Direi di arrivare al livello Abbastanza basso Ehm Perché così Troveremo Delle cose più interessanti Di questo Di questa stone Oddio Interessante anche la stone Per uno povero Come me in questo momento Ehm Potrei anche tagliare Di un solo blocco Perché sono un pipistrello Ehm Però Non ci avevo pensato Scusate E poi Bua abitudine Ma si Dai no Tagliamo in due blocchi Che poi magari Cioè Se voglio andarci Come persona normale Che Kaiser Boom 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 Io direi di fermarci Qui no vabbè Andiamo ancora più Un po' più in basso Ehm Abbiamo trovato Del Cos'è questo Ferreus Ore L'utilizzo di questo È Una beata Minghe Ferreus Ingot Ingot Vediamo cosa serve A fare le Ferreus Gear Vediamo cosa servono A fare Aiaiaiai Allora si Azzo se si Ehm Quelli sono dei macchinari Molto importanti Che vedremo più avanti Ehm E senza di questi Non li possiamo costruire Cioè dobbiamo craftarli In altri modi Ehm Loschi Perciò è meglio Prenderli adesso Che ce li abbiamo davanti Tanto non ci costa niente Wow 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 Cos'è questo Ah Sinabar Vediamo se hanno trovato Se hanno trovato Un'utilizzo a questa Sinabar Perché Sinabar Poco tempo fa Non servivano a niente E mi sa che non servono a niente uguale Vediamo un po' Usage Ehm Scusate Usage 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 Non hanno senso Però io direi che Probabilmente questo Avrà senso No? A cosa serve? Il gelid crioteum? Non lo so A proposito Ma c'è la Non mi viene il nome La stone Ehm Come si chiamava? La La Aspetta l'ho vista anche qua forse Ehm Così 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 No per il Per il ferreus Dov'è il ferreus Ora Eccolo qui Usage No 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 Ehm Come si chiamava La 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 Last Stone qualcosa Uffa 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 Non mi viene il nome Non mi viene il fottutissimo nome Insomma quella pietra che ti permetteva di Tipo di modificare il ferro Con quattro ferro faceva No Con otto ferri faceva un oro Ehm Cazzi e mazzi Ehm Ehm Paparazzi Ehm Non mi viene il nome Stone Inerte Aspetta 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 Mi sta venendo Mi ricordo che ci voleva una pietra inerte Vediamo un po' No Mi sa che non c'è quella mod E infatti Ehm Insomma No 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 Perché I mob che ha ucciso Ci avrebbero dovuto dare Ehm Ci avrebbero dovuto dare delle cose Delle Delle cose per utilizzarle Per costruire quella pietra di merda Ehm Allora Siamo a un livello Diciamo Abbastanza basso Ehm Sappiate che Il mio livello base Cioè Il mio obiettivo era quello di arrivare a 10 Perché a 10 Si trovano le cose fighe Però Ferro Wow Wow Un po' poco Però vabbè Ci accontentiamo Noi non siamo di quelli Che pretendono molto Sto scherzando Sono incazzato nero Ah è vero Noi possiamo volare Ma perché mi dimentico queste cose importanti Ehm Distruggiamo Il distruggibile Boom 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 Sto per finire il piccone Quindi direi di utilizzare l'altro Sapete Perché 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 sennò sono fottuto Oddio Ci mettiamo un po' di più Però Io credo Che sia L'ideale sia Fermarmi qui No Non ci avevo fatto caso Nella mappa Mi esce L'immagine delle caverne sotterranee Che si trovano nei dintorni Epico Epico Questa mappa è fighissima Questo pacchetto Il Direwolf 20 La nuova versione Mi ispira molto Nel senso che Non me lo aspettavo Di solito i Direwolf 20 Mi hanno sempre Come dire Sì certo Erano What I pacchetti Direwolf 20 Ogni volta che li installavo Qualsiasi versione Erano sempre uguali Sempre la stessa cosa Più o meno Invece questo nuovo pacchetto Mi ha strabiliato Ci sono cose molto interessanti Cose che non conoscevo Addirittura Il che è molto figo Poi vabbè È da molto che non ci giocavo Quindi comunque Molte cose neanche le ricordo Cioè Ho perso molta memoria Nel senso che Praticamente non mi ricordo Niente di Minecraft Non ci giocavo da Da più di Da più di 5 mesi Eh sì Perché Esattamente non registravo Techcraft Cioè L'ultima puntata di Techcraft È uscita tipo a Non so A novembre forse E E niente Quindi Oh Questi sono fighi Allora vi spiego Cosa è questo Questo è Rubino Con Rubino Si possono fare Dei picconi Si possono fare degli utensi Insomma E sono potenti Quanto quelli di ferro Quindi tutto quello Che possiamo distruggere In più Con il piccone in ferro Lo possiamo fare Anche con quello di Rubini Cosa cambia La durabilità Infatti i rubini Durano I picconi Fatti con Rubino Durano un bel po' di più Teoricamente Non so se sia ancora così E poi Il Rubino è più figo Perché lo puoi usare Cioè Lo distrugge e lo usi Così a cacchio Non devi cuocerlo O roba del genere Il che È molto figo Visto che Per cuocerlo Ci vuole un sacco di tempo E non ne ho voglia Non vedo l'ora Di arrivare a fare Delle cose Delle Qualche tipo di Fornace strano Che cuoce in due secondi Come si chiamava L'Induction Furnace Chissà se c'è ancora Oddio Ora mi sto incuriosendo Vediamo un po' Induction Oh si che c'è Oh si che c'è IC2 Vediamo come è il crafting Immagino che sia molto semplice Come al solito Ha ha Ma oddio non è difficile Advanced machine Ecco No No Cosa sono questi crafting Metal former Oh mio dio Saremo un po' Nella merda Quando ci toccherà farla Oh my god Lo sapevo C'era la La fregatura La fottitura Stavo per dire A che livello siamo Siamo a 2 Vabbè Andiamo all'1 E No Io direi di andare al 2 Cioè in realtà Allora ve l'ho detto Il livello più figo è il 10 Perché si trovano diamanti Ehm Si trovano praticamente Tutti i principali materiali Ehm Però anche a livello 1 Si trovano molti materiali Vedete Tipo il lead Non l'avamo ancora incontrato Se non sbaglio il lead Vediamo Ma perché Funziona di merda Posso dirvelo Questo Questa Qui si chiama Waila si chiamava La mod che vi mostra il nome Io risalerei al 10 Perché come vedete Qua non c'è un emerito Arazzo Allora Qua sono A Scendi 11 10 E scaviamo il laterale Oh le Mamma mia Ma subito Proprio Noi ci prendiamo Questo Che cosa c'è qua sopra Ho visto un fascio Di luce Lava What the fuck Oh redstone Anche la redstone Ci sarà molto utile Ehm Ne dovrò prendere Più che posso Ecco l'altro materiale Che si trova A questo livello La redstone Ma è un È un coso O è un coso Io sto prendendo tutto Come vedete Ma molte cose Non sono utili Oh finalmente Nell'altro pacchetto Nell'ultima stagione Di Di Tecraft Che avevo fatto Prima di questa Nella seconda stagione Insomma Ehm In pratica C'era Una mod Che sostituiva Quasi tutti i blocchi Di Di gold Con dei blocchi di gold Speciali Cioè strani Ehm Ce ne volevano nove Per creare un lingotto di gold Ehm E quelli I lingotti Cioè i blocchi Di gold Quelli originali Erano molto rari Da trovare Era una palla assurda Perché per trovare Per fare un lingotto d'oro Ci volevano nove di quelli E per fare nove di quelli Ci volevano tipo tre blocchi Invece con questi Con un blocco Te ne dà uno Un lingotto direttamente Ah ma mia Ma mia Ma mia Andiamo avanti Andiamo avanti Allora io prendo questa roba Poi devo chiudere la puntata Perché il tempo è terminato Ehm Mi dovete scusare Se questa puntata Non è stata Granché speciale Ma dovevo andare in miniera Ehm In più il tempo Scarseggiava La voglia pure Perché ero tutta la sera A scuola Ehm E in giro Quindi non ho Non ho Cioè sono stanco morto Insomma Perciò sto registrando Questa puntata Ehm Prima di cena Ehm E sono stanco morto Affamato Ehm Ho mangiato Vabbè no A pranzo ho mangiato Delle cagatine Diciamo che però Sono buone Parliamone Ehm Al fast food Quindi immaginate Perciò Non è che sia Il pieno delle mie forze Quindi dovete scusarmi Veramente Ehm Cazzo Non la posso prendere Non la posso prendere Non la posso prendere Voglio Ecco lo sapevo Facciamo luce Ehm Allora Io sono Spiegano Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Scrivetevi Condividete Mi trovate sempre su twitter Google plus O sul mio sito Spiegano Punto Scusate Sul mio sito Spiegano Punto Melle O su facebook Digitando facebook.com Spiegano Toto Io sono Spiegano Toto Ciao a tutti Ci vediamo Nella prossima puntata Di Techcraft Ciao